Albano, pseudonimo di Albano Antonio Carrisi, è un cantautore, personaggio televisivo e attore italiano. Nel corso della sua carriera ha venduto oltre 25 milioni di dischi nel mondo. Inoltre ha vinto 26 dischi d'oro e 8 dischi di platino. Dopo al fine del matrimonio, con Romina Power, Albano ha ritrovato la felicità due anni dopo con una nota giornalista e showgirl, Loredana Lecciso, da cui ha avuto due figli. Dopo molto tempo, però, in un'intervista rilasciata a Nuovo TV ha confessato di chi è davvero innamorato, lasciando tutti senza fiato. L'uomo, ormai, non sta più bella pelle e ha confessato di essere felicissimo per la nascita del suo quarto nipote, avuto da Romina Carrisi, che abbiamo avuto modo di conoscere nella trasmissione oggi e un altro giorno in qualità di affetto stabile. Nel dettaglio, l'uomo ha confessato, sono innamorato del mio quarto nipotino. La mia Romina mi ha donato un nipotino bellissimo. Si chiama Axel lupo e il mio cuore in questo momento è colmo di felicità.